17 Aprile 2021, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, Io vengo dal Cielo per condurvi a Colui che è la vostra unica via, verità e vita. Non permettete che le cose del mondo vi allontamino da Mio Figlio Gesù? State attenti a non essere ingannati. Camminate per un futuro di grande divisione. L'azione dei nemici della Chiesa causerà grande perdita di fede in molti dei miei poveri figli. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Sostenetevi con le parole del Mio Gesù e nell'Eucaristia. Ascoltatemi. Voi appartenete al Signore e Io vengo dal Cielo per chiamarvi al vero pentimento. Aprite i vostri cuori e lasciatevi condurre dall'azione dello Spirito Santo. Conosco ciascuno di voi per nome e pregherò il Mio Gesù per voi. Coraggio! La vostra vittoria nel Signore. Confidate in Lui e tutto andrà bene per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta.